Grazie a tutto il Banco Farmaceutico perché per noi è assolutamente fondamentale poter pensare che esistono realtà così straordinarie che aiutano il prossimo attraverso una raccolta sensibile dei farmaci, si è verificata in questa settimana una raccolta importante, presto questi farmaci verranno appunto distribuiti a tutti quei bambini, a quegli anziani, a quelle persone con fragilità che hanno necessità di seguire una cura ma che spesso non hanno quelle risorse per poter acquistare direttamente questi farmaci e noi attraverso questa azione cerchiamo appunto di dare il nostro contributo e grazie soprattutto a quei tanti cittadini che in questa settimana hanno voluto proprio donare e fare un'azione di sensibilità rispetto alla collettività attraverso anche una piccola donazione. L'importante è donare qualcosa e in qualche modo si dona anche attraverso un acquisto, come in questo caso, per aiutare veramente chi ha bisogno di curarsi. Grazie davvero al Presidente Gerardo Gatto perché lui con tanta dedizione sono anni che si dedica a questo comparto di solidarietà del terzo settore e i risultati davvero sono assolutamente greggi. Grazie.